Per dire che dietro alle mie spalle, due anni fa, c'era un ristorante, guardate cosa c'è adesso. E poi io credo che non cambia, cambia, cambia e come in due anni. Eh, hai voglia te. Adesso attraverso e sto attento perché sennò mi schiacciano. Speriamo, ecco. Magari da qua lo vedrete meglio, è gigantesco, non sembra, ma è veramente grande. Prima era un ristorantino dove andava a fare colazione. Ah, un angolo. Questo video è per i miei amici Fabri, che gli piace fare le acrobazie. Questo tipo che tra l'altro sta saldando proprio davanti a dove devo entrare io. E' niente, è così, senza protezioni, va tranquillo, come se non succedesse niente. Ora, io devo entrare dentro la guest house per fare la mia nuova doccia, e questi, probabilmente, non c'erano soldo. E ci fate caso a che maschera ha per saldare? Non è la maschera che abbiamo noi. Ha un cappuccio con due fori per gli occhi. Si arrangiano a tutto, ragazzi. Ecco, documento fatto. Ecco, documento fatto.